Un auto articolato è stato interessato da un principio d'incendio mentre viaggiava lungo la provinciale a Corneido Vicentino. Il conducente ha fermato il mezzo e allertato il 115. I vigili del fuoco sono intervenuti spegnendo le fiamme e hanno raffreddato le ruote, nel frattempo scoppiate. Con una termocamera è stata monitorata la temperatura del mezzo pesante. Il principio d'incendio sarebbe stato originato da un probabile malfunzionamento delle ganasce.